Un cordiale buon pomeriggio da Ivan Aldenese, prima corsa in programma, sono in 11 al Via, visto che il 4 di Dudley Dei Greppi non è partente. Cavalli di 3 anni, Dakota Grimm, Dominus Adal e Danilo Gall, i più gettonati. Corsa comunque aperta, vista la qualità e la giovane età dei cavalli. Allineamento che va ad ultimarsi, problemi dietro il mezzo meccanico per Dutch Wise S con Luca Fierro, perde il lancio e probabilmente ci abbandona già qui. Parte in mano il 7 di Danubio Holtz. Super partenza a largo del numero 6 di Demetra GWS, ritorna per linee esterne il 7 di Danubio. Danubio che cerca un posto in corda, glielo nega al momento Jenny Amitrano con Desdemona Jet, ma insiste Gaetano e all'imbocco della prima curva si accomoda. Quindi leader Demetra GWS con Vincenzo Gallo, in seconda posizione il 7 da Nubio Holtz con Gaetano Di Nardo. Risale subito per linee esterne il favorito Dominus Adal, viene via in terza ruota ma sbanda. Era stato parato in primis dal numero 3 di Danilo Gall e poi successivamente dal 7 di Danubio Holtz. I3 ha in aperta lotta dopo 600 metri passati in 44,8. Mi sa che corre al comando, galoppa il 7 di Danubio Holtz, galoppa anche il numero 11 di Dominus Adal. E quindi in seconda posizione si può accomodare Antonio Esposito col suo Danilo Gall che è stato lì giustamente a guardare gli eventi. E probabilmente ha fatto benissimo. Ora Danilo Gall dopo gli 800 passati in un minuto e cinque decimi avvicina il leader che è comunque sempre saldo leader. In terza posizione vediamo Vincenzo D'Alessandro con Dakota Grimm. 1,16 netto il chilometro con le prime tre posizioni immutate. Viene via a largo di tutti. Dovrebbe essere il numero 9 di Donetsk dei Greppi parato dal 3 di Danilo Gall che sull'ultima curva saluta gli avversari e se ne va. Se ne va Danilo Gall si trascina probabilmente solo il numero 12 di Dakota Grimm che si impegna al suo inseguimento. Lo sta affilando per sferrare l'attacco ai 150 finali ma Danilo Gall allunga lungo la corda prende vantaggio. Tony 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 Esposito a 50 dal palo viene avvicinato ma non battuto dal 12 di Dakota Grimm. Per il terzo il numero 9 di Donetsk dei Greppi. Io ho ancora un 44,8 la chiusa a 2 minuti 8 decimi. 1,15 e mezzo per una vittoria molto ben costruita dal giovane Antonio Esposito e con il suo fido Danilo Gall. Per il secondo una regolare Dakota Grimm e per il terzo a distanza ma corre bene il numero 9 di Donetsk dei Greppi con Romeo Gallucci. È tutto per la prima linea alla regia. Per la prima linea alla regia.